Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto, nostra ma anche della concessionaria Fratelli Meloni che abbiamo il grande piacere di ospitare in questa puntata. Parleremo di DR in compagnia di Moreno Meloni che è qui accanto a me. Ciao. Ciao Rosi e buonasera a tutti. Prima di presentarvi le nostre nuove vetture vorrei ricordarvi dove ci troviamo. Siamo a Rò in via pace al numero 70 e per raggiungerci è molto semplice con tutte le targenziali seguire le indicazioni per Rò Fiera di Milano. Da noi potete trovare un servizio completo per quanto riguarda le vostre DR, vendita, assistenza e magazzino ricambi. Adesso lascerei la parola a Fabio che vi illustrerà la gamma delle nuove vetture DR. Grazie Moreno, buonasera anche da parte mia. Prima di iniziare a illustrarvi le vetture vorrei parlarvi del marchio DR. DR è un marchio italiano nato nel 2006 che offre un'ottima qualità rapporto prezzo e una grande economia di esercizio perché su tutta la gamma è disponibile oltre a versione benzina, benzina GPL e motorizzazione anche benzina metano. Inizio a presentare la gamma dalla nuova Citycar, la DR0, una vettura molto compatta, lunga 3 metri e 57, dotata di un 1000 benzina 3 cilindri Euro 6 da 69 cavalli con la possibilità anche di avere l'impianto GPL. La vettura ha un allestimento unico ma davvero completo. Di serie offriamo i cerchi in lega della 14 pollici, i paraurti in tinta, il doppio airbag anteriore, l'ABS, le luci di urne, le barre laterali antintrusione, poggia testa anteriori e posteriori regolabili, antifurto con telecomando apertura e chiusura a porte, sensori di parcheggio posteriori, lo schienale sedile posteriore abbattibile, il trip computer, tergil 1-8, illuminazione vando bagagli, il volante regolabile in altezza, il servo sterzo, climatizzatore manuale, i retrovisori esterni elettrici, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, chiusura centralizzata, radio cd integrata in plancia, 4 autoparlanti con elettore mp3 e presa usb. Pensate, tutto questo a partire da solo 7.980 Euro per la versione benzina, eventualmente solo 1000 Euro in più per la versione GPL. Ed ora passiamo al modello City Cross, un modello dalle dimensioni cittadine ma con grande abitabilità interna, dotata di un motore 1300 benzina, eventualmente si può avere anche la versione benzina GPL o benzina metano. Grazie alle modellature di protezione, le barri longitudinali sul tetto, i cerchi da 15 pollici, ha una linea trendy e grintosa. Come tutte le vetture HDR ha un alzimento molto completo, quindi ha di serie già l'ABS, il servo sterzo, climatizzatore manuale, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, l'airbag frontale, lato guida e passeggero, poggiatesta anteriori e posteriori regolabili, l'antifurto sonoro con telecomando apertura a chiusura a porte, la chiusura centralizzata, l'antifurto immobilizer, gli interni in tessuto, autoradio integrato in plancia con lettore CD MP3 e presa USB, i sedili anteriori riscaldabili, il schienale sedile posteriore abbattibile, l'illuminazione e vanno bagagli, i retrovisori esterni elettrici, i fendi nebbia e le volante regolabili in altezza. A partire da un prezzo di solo 10.980 euro per la versione benzina, 1000 euro in più per la versione GPL e circa 2.500 euro per la versione metano. Su tutte le versioni è disponibile anche il cambio automatico. Concludo a presentarvi la gamma DR con la rinnovata DR5. Da un punto di vista estetico i cambiamenti riguardano soprattutto il frontale con nuovi gruppi ottici ed una linea più affusolata. All'interno le novità più importanti le troviamo nella plancia più compatta ed ergonomica con i senti incromati che le conferiscono maggiore eleganza. Adotta un motore 1600 da 126 cavalli a trazione anteriore e un 2000 da 139 cavalli a trazione integrale. Tutti i motori sono disponibili con la doppia alimentazione a GPL o eventualmente anche a metano. La dotazione di serie è ovviamente full optional in perfetto stile DR. Quindi abbiamo già di serie i cerchi in lega da 17, l'ABS, il servo sterzo, l'airbag frontale lato guida e passeggero, climatizzatore manuale, l'antifurto sonoro perimetrale, l'antifurto immobilizer, chiusura centralizzata con telecomando, autoradio collettore cd mp3 e presa usb con i comandi radio al volante, sensori di parcheggio posteriori, schienale sedile posteriore abbattibile 60-40, le luci diurne, vani portocchiali, retrovisori esterni elettrici, alza cristalli elettrici anteriori e posteriori, volante regolabile in altezza, le barre porta tutto, ruota di scorta dimensioni normali e i fendi nebbi anteriori. Pensate a tutto questo a partire da soli 14.980 euro per la versione 1.6 benzina, eventualmente 1.000 euro in più per la versione a GPL o 2.500 euro in più per la versione a metano. Sulla versione 1.6 è disponibile anche il cambio automatico a partire da 15.980 euro. Vi ricordo che oltre alle vetture nuove abbiamo anche un vasto parco di vetture usate, aziendali o km 0. Andiamo a vederne alcune. Chevrolet Aveo 1.2 allestimento lt col GPL 5 porte dell'aprile del 2010 euro 4 completa 92.000 km 6.300 euro. Chevrolet Spark LS col GPL 1000 di cilindrata febbraio del 2013 euro 5 a 6.900 euro con 63.000 km. Fiat 500l allestimento pop star 1.3 turbodiesel da 85 cavalli. Del 2014 22.000 km soltanto 15.300 euro più il trapasso. Ford C-Max 1.6 turbodiesel allestimento business del settembre del 2013 pochi chilometri 85 kilowatt euro 5 con il filtro antiparticolato 14.600 euro. Mercedes classe A 180 CDI allestimento con navigatore del marzo del 2011 molto bella 12.900 euro 64.500 km. Mercedes classe B 200 CDI allestimento chrome del febbraio del 2010 103 kilowatt 12.900 euro. Nissan Micra A 100 vettura aziendale con pochissimi chilometri 1.2 5 porte marzo del 2015 euro 6 8.900 euro. Opel Astra Station Wagon allestimento elective 1.7 turbodiesel 81 kilowatt del giugno del 2014 chilometri 45.000 12.900 euro. Ed ora comincio a presentarvi la gamma Nissan dal nuovissimo Cascai. Crossover campione di vendite nella sua categoria. La vettura è stata completamente rinnovata ha un design unico e molto moderno. Adotta due motori benzina un 1.2 da 115 cavalli abbinabile anche a un cambio automatico e un 1.6 da 163 cavalli e due motori diesel un 1.5 da 110 cavalli e un 1.6 da 130 cavalli. Il motore 1.6 turbodiesel è abbinabile a un cambio automatico oppure alla trasmissione a quattro ruote motrici. L'allestimento base denominato Visia è già molto completo. Adotta tra l'altro i 6 airbag, l'ABS e le BD, le ESP, gli attacchi ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza anteriori con l'impertensionatore, chiusura centralizzata con sblocco selettivo, sistema di monitoraggio e pressione pneumatici, chiusura centralizzata col telecomando, climatizzatore manuale, servo sterzo elettronico con regolazione normale o sport, l'assistenza alla partenza in salita, il volante regolabile in altezza e profondità, l'aletta parasole con lo specchietto illuminato lato guida, bracciolo centrale anteriore con porta usb e presa 12 volt, il sedile guida regolabile in altezza, i sedili posteriori abbattibili 60-40, i vetri reti anteriori e posteriori, un display a colore da 5 pollici nel quadro strumenti, gli specchietti regolabili elettricamente riscaldabili, freno di stazionamento elettronico, vano a porta oggetto illuminato, cerchi in acciaio da 16, le luci di urna a red, le luci posteriori a red, il computer di bordo, radio col cd, collettore mp3, bluetooth, usb e comandi al volante, cruise control e limitatore di velocità, quindi un allestimento molto molto completo. solo per questo mese troverete da noi la gamma Cascai a partire da 18.300 euro con lo scontro l'ottamazione. Ed eccomi arrivato a presentare il nuovo SUV di casa Nissan, l'X-Trail, adotta due motorizzazioni, un 1.6 turbo benzina da 163 cavalli e un 1.6 turbo diesel da 130 cavalli. Ha un nuovo design molto muscoloso e con interni molto spaziosi, con la possibilità di avere anche la configurazione, a sette posti. Partiamo dall'allestimento Visia che è già molto completo, che adotta di serie tra l'altro i 6 airbag, l'ABS più l'EBD, ESP, attacchi ISOFIX per i sedili posteriori, chiusura centralizzata con blocco selettivo, antifurto immobilizer, il sistema di monitoraggio a pressione pneumatici, il sistema di controllo della vettura e il controllo attivo della traiettoria, il dispositivo follow me home, il ruotino di scorta già di serie su tutte le versioni, telecomando apertura chiusura a porte, climatizzatore manuale, l'assistenza alla partenza in salita, volante regolabile in altezza e profondità, aletta parasore con specchietto illuminato a lato guida, bracciolo centrale anteriore con la porta USB e la presa a 12 volt, bracciolo centrale posteriore con porta bicchieri, sedile guida regolabile in altezza e profondità, sedile posteriori abbattibili 60 e 40, vetri elettrici anteriori e posteriori, gli specchietti regolabili elettricamente riscaldabili, un bagagliaio con doppio fondo modulare, display a colori da 5 pollici nel colladro strumenti, freno di stazionamento elettrico, cerchi in lega da 17, le luci diurne e posteriori a led, lo spoiler posteriore, sistema stop and start, computer di bordo, la radio con il cd, con l'MP3, il bluetooth, l'USB e i comandi al volante, inoltre il cruise control e l'imitatore di velocità. Pensate a tutto questo a partire da solo 23.150 euro con lo sconto all'automazione. Prima di salutare, volevo inoltre ricordare che oltre alla vendita delle vetture nuove ed usate, abbiamo un'ottima officina di assistenza e magazzino ricambi per tutte e tre i marchi da noi trattati, DR, Nissan e Chevrolet. Pertanto vi invito a venirci a trovare in Via Pace 70 Aro. Un saluto a tutti, buona serata.